Si aggiornano i numeri della pandemia di coronavirus in Puglia. Gli ultimi dati sono quelli forniti dal bollettino epidemiologico regionale che segnala nella giornata di oggi, lunedì 4 gennaio, 631 nuovi casi accertati sulla base di 4.138 tamponi. Più della metà dei contagi odierni si riferiscono alla provincia di Bari che conta 318 positivi, seguita da quella di Foggia con 97 e Brindisi 77. Sono 71 invece i casi segnalati nel territorio di Lecce, 46 nella BAT ed infine 21 in provincia di Taranto ai quali si aggiunge la positività di un residente fuori regione. Il totale dei contagi pugliesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a quota 94.284. Resta alto il dato relativo ai decessi con altri 20 morti registrati nelle ultime 24 ore. 9 in provincia di Bari, 6 nel Tarantino, 2 nella BAT ed 1 rispettivamente nei territori di Brindisi e Lecce più un residente fuori regione. Il bilancio delle vittime del covid tocca la cifra di 2.536. Si conferma in calo il numero degli attualmente positivi che sono in tutto 53.539, oltre 500 meno di un giorno fa ed è in leggera discesa anche il dato riferito ai ricoverati che sono ad oggi 1.601, circa una decina meno di ieri. Di questi sono 137 i pazienti in terapia intensiva. Ancora una buona notizia infine sul fronte dei negativizzati che si confermano in ulteriore aumento. Secondo le informazioni contenute nell'ultimo bollettino, i pugliesi guariti dalla malattia sono complessivamente 38.209, 1.150 in più nelle ultime 24 ore.